Il voto del 31 maggio è fondamentale, siamo stufi, lo so, non ce la facciamo più, questi politicanti, questi partiti, questa gente, perfetto, però non possiamo delegare a pochi la gestione di una regione così importante come la Puglia, una regione che deve riprendere un cammino interrotto dieci anni fa, ma soprattutto una regione che vuole risposte ai propri bisogni concreti. Sanità poco più che zero, lavoro poco più che uno, in fondo siamo una regione che ha delle bellezze uniche ma che non sa sfruttarle. Il voto a Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale con una lista giovane, capace e soprattutto che rappresenta il territorio, è un voto dedicato al futuro, è un voto dedicato al territorio, è un voto dedicato al lavoro ed è un voto anche dedicato all'identità nazionale. Non possiamo tollerare ancora quello che accade quasi ogni giorno in questa terra, nella quale ci hanno turlupinato nelle ultime ore, dandoci ancora 90.000 immigrati da ospitare senza dirci nulla. Una terra che deve sopportare i personaggi alla Renzi, che fanno mille proclami ma nulla di concreto e che ci lasciano sempre più sprofondare nel nostro torpore. Reagiamo, puntiamo ad un voto che serva anche a Ruvo l'anno prossimo per dare un governo serio ed una strategia possibile e non dimentichiamoci che allora quando andremo a votare dovremo anzitutto guardare negli occhi quelli che sono i nostri riferimenti e la nostra storia e dare a loro un segnale preciso. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale è con voi per il futuro della Puglia.